E' ripresa l'iniziativa Porta Aperte a Palazzo Lascaris, le visite guidate aperte a tutti i cittadini alla sede del Consiglio regionale. E' un'occasione per conoscere da vicino il funzionamento dell'Assemblea Legislativa e delle attività che la contraddistinguono. Inoltre, nella visita guidata, i cittadini hanno l'opportunità di scoprire il particolare valore artistico di Palazzo Lascaris. Prossimi appuntamenti nei sabati 5 ottobre, 9 novembre e 7 dicembre.